Grazie a tutti. Hai fatto una buona partita tu come i tuoi compagni, però eravate atleticamente inferiori, credo che abbia fatto fondamentalmente quella la differenza. Allora arrivavano di me a pallone, sono persone legate che stanno a giocare a pallone, quindi non c'è niente da dire, abbiamo provato, loro hanno vinto, hanno stravinto merito a me, li abbiamo solo inseguiti, però va bene, alla fine sono dieci partite. Dopo la prima vittoria, guardi, non ho sconvitta, ma come hai detto tu stesso, il cammino è lungo, ci sarà modo di poter fare tanti punti e poter la forma fisica verrà coltello. Sicuramente. Buonasera, bocca al lupo per il tuo seguo e complimenti. Sei bellissimo. Seconda giornata a gruppo B, il punto autonoleggio si impone per 9 a 2 su MGM Moto, qui con me l'uomo partita Randis. L'uomo partita perché hai segnato sei redi, ma la tua squadra oggi è girata alla grande, correte tantissimo, avete distrutto gli avversari più che altro del mondo di vista atletico oltre che tecnico. Sì, oggi rispetto alla partita di domenica scorsa, diciamo che atleticamente eravamo meglio, anche se la partita era iniziata con due uomini in meno per noi perché mancavano due ragazzi che sono due minuti dopo. Vabbè, 3 a 0 già con l'uomo in meno l'avete fatto. Sì, però voglio dire, ha giocato il presidente, anzi lo ringrazio per la partita che ha fatto. Quale gol ti è piaciuto di più dei sei che hai realizzato? A riporto, in giro. Diciamo che i gol sono tutti belli perché quando la palla entra... È sempre una gioia. Alessandro, complimenti, in bocca al lupo per i prossimi. Alessandro, complimenti, in bocca al lupo per i prossimi.